Il nuovo diffusore audio wireless dell'LG resta sospeso nel vuoto grazie a un sistema di levitazione facilmente ricreabile tramite elettromagneti. Un gadget che in questo caso non solo possiede un design ricercato, ma restituisce anche suoni nitidi ed equilibrati per ben 10 ore e quando inizia a scaricarsi si avvicina da solo alla base senza nessuna interruzione nella musica. Grazie